Un saluto a tutti gli amici di Poker Room, siamo qua con Alice Nuvola al PPT di Kraniska Gora. Ciao Alice. Ciao a tutti, Poker Room. Sono appena usciuta dal torneo in realtà, quindi sono un po' triste, però è andata così, siamo passati al day 2, poi dopo cena sono rimasta short e mi sono trovata a dover pushare e non è andata benissimo. Anche perché hai deciso di puntare proprio nello spot sbagliato, diciamo. Assolutamente lo spot più sbagliato, proprio perché l'avversario appunto aveva due assi e quindi così. È andata così, però non ho niente da recriminare perché sono stata card dead praticamente per quasi due giorni, quindi sono abbastanza contenta nel mio torneo, poi andrà meglio la prossima volta. Bene, ti auguriamo l'in bocca al lupo. Io volevo farti una domanda in particolar modo riferita a questo torneo. Volevo chiederti quali sono le qualità che deve avere un giocatore per riuscire, ad esempio, a vincere un 80-20? Questa è una bella domanda che sapessi la risposta vincerei tanti 80-20 che invece non vinco assolutamente. Quindi quando scopri qualcuno che la sarà ti prego di dirlo anche a me perché... Ovviamente questa era solo una provocazione perché io e Alice siamo stati coinvolti in una mano, un po' macchinosa. Ma poi tipo la seconda mano penso del torneo, dello start del D1B, quindi proprio all'inizio, inizio, a seconda mano, sì. Ha vinto l'80-20, indovinate chi ha vinto. Io stavo all'80. Va bene, ti ringraziamo per il tuo tempo Alice e in bocca al lupo. Grazie mille e ci si arriva da San Marino. Senz'altro, senz'altro.